Amici di Battista 70 Phone, buongiorno! Oggi parliamo del nuovo LG V40, smartphone di cui al momento non è prevista la commercializzazione in Italia. Lo abbiamo tra le nostre mani grazie all'amico Roberto che l'ho acquistato tramite siti esteri. Particolarità di questo smartphone, oltre ad essere molto bello e leggero, poco più di 160 grammi, nonostante abbia un display molto ampio da ben 6 pollici e 4, come potete vedere, un bel display P-OLED, tripla fotocamera sul posteriore e doppia fotocamera anteriore, per cui un totale di ben 5 fotocamere che devo dire, tranne quella anteriore che non mi ha pienamente convinto, è una 8 più 5, ma trovo che ci sia ancora da lavorare, devo dire che comunque quella posteriore mi ha convinto molto. Tre fotocamere, come sono strutturate? C'è una fotocamera da 12 che è una fotocamera standard stabilizzata, una fotocamera da 12 telefoto sempre stabilizzata per lo zoom e devo dire che lo zoom funziona bene, se avete visto le foto che ho postato nel blog vedrete che anche zoomando la definizione non cala, e una telecamera ultra wide da 16 megapixel. L'angolo non è più quello di una volta molto ampio, è stato ristretto, ma in compenso non si vedono più le fastidiosi curvature. Cos'altro abbiamo? Onboard Snapdragon 845, 6 giga di ram, ci sono versioni da 64 e da 128, quella di Roberto è una 128, a cui ha aggiunto una micro sd da 1 tera e vedo che la supporta, non so cosa se ne faccia, comunque è presente. Devo dire che il processore lavora veramente molto bene, l'autonomia è simile a quella del V30, per cui è sufficiente arrivare a sera con un uso molto intenso. Parte telefonica, non da bunker, ma trovo che sia migliore rispetto ad alcuni LG che ho provato ultimamente. Non ho mai avuto particolari problemi, lo stiamo utilizzando con una scheda della team e devo dire che sinceramente ho provato anche ad andare in cantina e continuavo a tenere il segnale, per cui non quattro tacche piene in cantina, ovviamente, però devo dire che comunque tiene, per cui devo dire che non è assolutamente niente male. La ricarica è anche, scusate, ricarica wireless, comprensiva di ricarica wireless è veloce, ad avere l'adattatore, adesso non so cosa sia presente nella scatola, perché Roberto ce l'ha portato da provare, ce l'ha lasciato in mano così. Comunque dicevo, batteria da 3300 mAh, comunque ricarica normale veloce e anche ricarica wireless veloce, ripetiamo. Anche IP68, per cui praticamente full optional. Io spero che LG cambi idea e lo faccia arrivare anche sui nostri mercati, perché sinceramente è veramente un ottimo modello e a livello fotografico mi è piaciuto veramente molto. Ok, dai, con questo ci spostiamo al banco e andiamo a vederlo da vicino. Scusate, intanto stavo facendo un po' di questo. Per notare è dotato ovviamente del display Always On, che direi che ormai è diventato immancabile. Altro aspetto importante, l'audio Quad DAC DTS X Surround, per un ascolto veramente eccezionale, sia in viva voce che in cuffia. In cuffia l'ho ascoltato per un'oretta circa e devo dire che è un suono molto pulito, potente, non distorce. Insomma, è un ottimo lavoro come sul G7. Poi tra l'altro se lo appoggiate tipo su una scatola vi fa rimbombare praticamente tutto l'ambiente. È veramente un lavoro eccezionale. Allora, qui sotto abbiamo lo speaker del volume, USB Type-C, forellino del microfono, jack da tre e mezzo, da questo lato un tasto configurabile, se volete potete fargli aprire la fotocamera, fate lanciare l'assistente di Google, il bilanciere del volume, forellino del noise reduction. Da questo lato abbiamo il tasto di avvio spegnimento stand-by e l'ingresso per nano SIM più espansione di memoria. Ho visto che esiste anche versione dual SIM con slot dedicato. Potete vedere un bel colore blu, poi comunque Roberto gli ha applicato pellicola fronte e retro, che non guasta mai, per cui lo stiamo utilizzando senza nessuna cover. Vi dicevo la sua bella tripla fotocamera, la scrittina V40 ThinQ. Insomma, è un telefono veramente molto ma molto valido. Il display è un Quad HD Plus da 6 pollici e 4. Insomma, devo dire che è un top di gamma a tutti gli effetti. Ribadisco la mia idea, nel senso, spero che LG cambi idea e decida di farlo arrivare anche sui nostri mercati ufficialmente. Andiamo a fare una chiamata. Facciamo 187, perché ieri non ho capito per quale estruso motivo, mi è partita una chiamata ai Vigili del Fuoco. Secondo. Ciao, sono Chiara. Ti do il benvenuto in servizio clienti Lina Fischer Team. Per avere riguola unità, vai subito su. Ok, come avete sentito, vabbè, questo non è molto indicativo. Sentiamo un brano musicale. Comunque, l'icezione, vi dicevo, buona. E avete sentito un audio potente e di ottima qualità. Il meglio, sinceramente, lo dà. in cuffia, lì veramente l'audio diventa di qualità ottima. Vediamo un po' magari com'è questo display. Apriamo le nostre solite immagini campioni. Devo dire che è un bel display. Come potete vedere abbiamo una buona... ok, ci avviciniamo leggermente con lo zoom. Abbiamo un nero molto profondo, colori abbastanza, diciamo, equilibrati, salvo una leggera saturazione del giallo. Insomma, come vedete, assolutamente niente male. Vediamo un po' le foto. Qua non ho capito. Ah, sì, avevo sbagliato io qualcosa. Questa è una foto di... ogni tanto a me piace cucinare, lo sapete. E questo, l'effetto ritratto, devo dire che non è particolarmente buono. Un po' meglio sul mio figlio, però non mi piace particolarmente. Questa è una bella foto in notturna, senza flash. E potete vedere che ha una definizione veramente eccezionale. Ovviamente la definizione cala quando si usa il grandangolo, ma è anche normale che sia così. Insomma, vabbè, questo è un esperimento. Come potete vedere, anche questa completamente al buio, illuminata solo dalle luci della casa, insomma. E vi dicevo, i selfie non sono un granché qua. Ho utilizzato un po' troppo l'effetto bellezza, infatti sembro un bambolotto. Però nel complesso, veramente, la cam posteriore a me è piaciuta davvero tantissimo. Ok, usciamo da qui. Scusate, c'è stato un attimo di intruppamento. Andiamo magari a vedere un video su YouTube. No, grazie, non me ne frega niente. Prendiamo questo addirittura 5K. Aspettiamo che finisca sta benedetta inserzione. Ok. Thanks for watching. Ok. Display davvero molto bello. Ha dei colori eccezionali, anche la definizione. Insomma, che dire, un ottimo lavoro. A me piace davvero molto anche in ambito multimediale. Vediamo un po' come è strutturata la fotocamera. Qui potete utilizzare l'iCam, triplo shot, google lens, oppure l'effetto ritratto. Qui avete tutte le varie modalità. Interessante 4K a 60 fps, modalità manuale, manuale anche nei video, cinevideo, cibo. Insomma, c'è per tutti i gusti. Se siete amanti della fotografia, qui non avete di che divertirvi. Insomma, c'è veramente di tutto e per tutti i gusti. Non voglio tediarvi troppo. Devo dire che abbiamo già parlato abbastanza. Vediamo un po' come si comporta nella nostra solita parte ludica. Scusate, sono le 8.25. Sono sveglio da due ore e mezzo, ma non riesco ancora a carburare. Mi chiederete perché lo fai a quest'ora passiamo ad altri momenti di risponibili. Andiamo. Facciamo i nostri eventi giornalieri. Scuola gli eventi. Abbiamo caricato i nostri bonus. Fanno una gara qualunque. dobbiamo giocare. Ovviamente non ci sono rallentamenti e problemi di alcunché. Vediamo che riesco a non spiantarli e a mantenere la visuale a fuoco. ok, questo è qua. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Adesso, vabbè, vi lascio stare, non vi tedio oltre. Allora, il terminale, Roberto l'ha acquistato da un ragazzo a cui ha detto che l'ha acquistato su un sito che si chiama Wanda Mobile, con la W, io sinceramente non lo conosco, un prezzo intorno ai 750-800 euro. Secondo me li vale tutti e anche di più, perché è veramente un ottimo smartphone, vi ribadisco. A me è piaciuto davvero tanto, l'ho trovato anche completo. forse la cam frontale non è il massimo, non sono, diciamo, il soggetto migliore per esprimermi su questo fattore. Comunque, ribadisco, speriamo arrivi. Con questo concluso, saluto dall'Aris, Salis Battista 70 per Battista 70.